Amici di Armietiro, siamo sempre lo stand Svarosky, ma questa volta siamo nel corner dedicato alle ottiche Kales, distribuiti in Italia sempre dalla filiale della grande azienda austriaca. Qui con me c'è Peter, molto noto del marchio Kales, e con lui il nuovo termico, nel senso che esteticamente può sembrare uguale, ma il cuore è completamente rinnovato. Giulio è tutto nuovo, dentro è un Helia Tei 35 Plus e il 18 Plus, c'è un sensore VGA che è di altissima qualità, abbiamo uno 640x5x12 di pixel, ci sono i dettagli, tu vedi i peli, vedi maschio, femmina, vedi tutto. Ecco, invece quello piccolino, il 18, che ha un campo visivo di 44 metri sui 100, che è enorme, non esiste uno al mercato adesso con un'ampia visibilità. Ok, quindi queste novità Kales le potete vedere nel dettaglio sul numero di marzo di Armietiro.